Dottoressa Eva Pollard di Monteghetini Terme segue la serie del video Magistrati Criminali. Questa volta illustro un altro caso del giudice dottore Ernesto Covini del Tribunale Penale di Pistoia. Ho denunciato l'avvocato Luca Becchini, nominatomi con il gratuito patrocinio, per la difesa in una causa civile che mi vedeva citata in giudizio per occupazione abusiva di una loggio popolare assegnatomi nello Stato Grezzo dal comune di Monteghetini Terme nel quale io ho effettuato i lavori di completamento autorizzati dallo stesso ente. L'avvocato si è colluso con le altre parti in causa e è venuto a meno a suoi impegni professionali. Non ha voluto produrre al giudice le delibere di assegnazione, le altre delibere che si succedevano, che avevano il contenuto falso. Non ha voluto eccepire nulla delle mie ragioni al giudice. Non ha citato i testimoni, quel pochi irrilevanti da lui indicati, e nella causa di escursione dei testimoni, ovviamente solo dell'altra parte, se ne è andato, i quali venivano escursi senza il contraddittorio, con la conseguenza che io di recente sono stata dichiarata occupante abusiva della casa, all'immediato rilascio dell'immobile e ad una cifra stellare di indennità di occupazione pagare a favore del comune. E tutto questo ad opera del giudice Covini. Praticamente dopo la pratica del procedimento penale, la causa civile è andata nella mano dello stesso giudice Covini, che ha già conosciuto la causa nella sua veste penale. Il procedimento penale a carico dell'avvocato è stato assegnato al sostituto magistrato Ornella Galleotti. Il PM non ha svolto un solo atto di indagine perché le bastava guardare chi ha firmato la querela, Eva Pollack, e non c'era bisogno di indagare. Il magistrato ha presentato immediatamente la richiesta di archiviazione al GIP, evocando le risultanze delle indagini preliminari mai svolte che avrebbero attestato l'infondatezza della notizia di reato. L'avvocato Becchini, prima dell'udienza camerale fissata a seguito della mia opposizione dal GIP, ha presentato le sue memorie al magistrato e al GIP allegando delle documentazioni, ma da una lettura attenta si poteva verificare che le prove delle sue colpevolezze ci stanno proprio negli atti da lui stesso prodotti. Comunque il GIP Alessandro Galardini ha disposto l'archiviazione del procedimento perché ha evocato che io, quando mi ero accorta che il Becchini non voleva produrre la delibera di assegnazione, non voleva nominare i testimoni importanti, citare neanche quelli pochi e irrilevanti in giudizio, io avrei potuto revocare il mandato. Nonostante che, la disciplina relativa all'ammissione al gratuito patrocinio prevede che col gratuito patrocinio non si può revocare il mandato all'avvocato perché è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o il giudice che lo nomina e lo può revocare e questo espressamente ci fanno firmare nella domanda all'ammissione al gratuito patrocinio. Questo fatto i giudici dovevano pure saperlo, no? Mi sembra. L'altra motivazione del GIP era che l'avvocato avrebbe già rinunciato il suo mandato in data 9 marzo 2003 che ha comunicato al giudice in data 15 giugno 2004 e tutto questo perché il Becchini ha prodotto al giudice la sua rinuncia al mandato datata 9 marzo 2003. Però l'avvocato si è scordato a raccontare al giudice nonostante che ha anche prodotto come documentazione la ricevuta di ritorno secondo la quale lui ha spedito questa lettera solo nel marzo 2004 e io ho ritirato nel 30 marzo 2004. Le falsità del Becchini si potevano avvisare dalla documentazione da me prodotta, dai verbali d'udienza perché dai verbali d'udienza è evidente che il Becchini non ha rinunciato il suo mandato il 9 marzo 2003 perché come si vede ha partecipato anche all'udienza, anche quella successiva il 18 marzo 2003 e poi altre 4 udienze perciò il ragionamento dei giudici non reggeva soprattutto perché il Becchini ha rinunciato il suo mandato solo dopo 6 udienze e nell'udienza quando venivano escusi i testimoni che per colpa sua sono stati escusi senza il contraddittorio guardate 15 giugno 2004 compare l'avvocato Becchini nominato con missione al gratuito panorginio e rinuncia il mandato e se ne va e a questo punto vengono chiamati a deporre i testimoni citati della controparte comunque io non mi sono arresa a tanta ingiustizia e ho presentato richiesta al GIP di correggere questo provvedimento di contenuto assurdo a questo punto è subentrato il giudice Covini il quale mi ha rigettato queste richieste nonostante che io li ho prodotto i documenti che provavano la falsità del Becchini poi ho presentato una seconda domanda di correzione del provvedimento del GIP precedente però anche questo è stato vistato dall'Ernesto Covini quale una domanda inamissibile così il giudice Covini si è prestato a farmi fottere la casa prima nella sua qualità di GIP in sede penale e poi nella sua qualità di giudice nella stessa causa civile io a questo punto non posso fare e non voglio fare altro commento perché queste sono delle porcherie mostruose e richiamo l'ennesima volta l'attenzione degli organi competenti che vogliano provvedere perché Eva Pollack è satura di tutte queste ingiustizie il mio indirizzo email ormai lo sanno tutti